Ci stiamo ormai avvicinando al nuovo anno e in questi ultimi giorni del 2023 mi piacerebbe con voi in questo video andare a prendere alcuni punti importanti per tutti voi ovviamente che cercate di fare del trading un'attività costante e profittevole, i punti diciamo più importanti da tenere in considerazione per i prossimi tempi, per i prossimi mesi e quindi per tutto in realtà al 2024. Solitamente infatti all'inizio dell'anno abbiamo tutti dei buoni propositi, ci poniamo degli obiettivi nuovi o comunque cercheremo diciamo all'inizio cerchiamo di essere più bravi nella nostra attività, di migliorarla, ecco che questo video cerca di darvi qualche spunto per migliorare appunto il vostro trading. La prima cosa che mi sento di dirvi e di consigliarvi è quello di mantenere la semplicità nel vostro piano operativo. Togliete ciò che non serve, mantenete il grafico scarno e abbiate un piano di trading con poche regole e ben chiare in testa. Invece di passare il tempo nel web a cercare strategie magiche, tecniche miracolose, meglio concentrarsi su poche regole, un metodo solo e impararlo bene. Il mio metodo price action, il price action trading, studia solamente il prezzo, non studia volumi, dati macro, indicatori, oscillatori. Quindi se vuoi veramente fare price action trading diventa un fuoriclasse del price action trading. In questa semplicità e in questo diciamo minimalismo, in questo less is more, cioè meno che è più, creati delle liste o una lista d'azione che sia sempre quella e non superare gli 8-10 mercati nel fare trading. E questo lo puoi portare anche sui time frame, ovvero non utilizzare troppi time frame, utilizzane 2-3. Io per esempio utilizzo il weekly, il daily e al massimo un 6 ore. Altro punto importante su cui concentrarsi quest'anno è meno trading nel senso click, meno operazioni e più studio e comprensione del mercato. È davvero inutile continuare a fare un sacco di operazioni durante il giorno, durante la settimana, magari anche con rischio basso per poter guadagnare nel mese, nel trimestre e nell'anno nel trading. Meglio avere una grande qualità operativa, studiare bene quello che si vuole fare quando si fa trading, quando si clicca, avere anche un rischio un po' più alto ma la qualità del setup è migliore e quindi si può davvero guadagnare nel trading. Puoi ben capire che quindi non serve stare ore e ore davanti ai grafici facendo magari un trading veramente di poca qualità ma è meglio fare e passare qualche ora sui grafici per analizzare il mercato e per pianificarsi i prossimi trading. Un altro punto su cui ti invito a riflettere e cercare di crescere è quello di essere razionale e obiettivo nel tuo trading. Si deve infatti affrontare ogni scambio, ogni trade con la massima neutralità come se non fossimo mai a mercato o come se non si avesse mai un pregiudizio su quel mercato. Il tutto deve essere chiaramente effettuato solo in base alla propria analisi weekly, la propria analisi settimanale, il proprio piano e operare di giorno in giorno solamente basandosi sul proprio piano settimanale che ha dato dalla price action che ovviamente a fine settimana ci aveva detto il da farsi. Impariamo a padroneggiare le nostre emozioni. Tu devi riflettere con la tua testa in base a un piano e un metodo che ti sei fatto nel passato. Soprattutto comunque non ascoltare le voci, i rumors, ma guarda esclusivamente ciò che ti dice il grafico e cerca di rispettare la sua voce. Un'altra cosa su cui voglio farti riflettere è che nel trading ogni giorno è un nuovo giorno, quindi non farti condizionare dal risultato dell'ultimo trade o dal risultato degli ultimi trade, le ultime negoziazioni che tu hai fatto. Ovviamente segui con un piano di trading quella che è la tua operatività, ma non farti distogliere, quindi non togliere il focus e cerca di operare solo sulla qualità, al di là di quello che hanno fatto gli ultimi trade. Sicuramente se hai utilizzato qualità avrai fatto le cose come andavano fatte, al di là del risultato economico. E poi scrivi in un foglio chi sei e cosa fai e cosa vuoi dal trading e mantieni nella tua scrivania, nel tuo punto dove, nel tuo desk dove fai trading, dove fai le analisi ogni giorno. Io infatti ho quello dell'anno scorso che adesso devo rifare, ce l'ho qui, guardate l'ho appena staccato dalla scrivania perché era attaccato con lo scotch come si può notare. Ecco qua, sono un trader professionista, il trading per me è un business, ogni trade può dare come risultato la perdita prestabilita. Opero nei mercati sempre in linea con il mio metodo, gestisco al meglio il rischio e le mie emozioni perché sono la chiave per il profitto. Queste sono le mie affirmation, i miei spunti per affrontare sempre ogni giorno tutte le operazioni, quindi vi consiglio di farvi queste affirmation, di scrivervi queste affermazioni e di inserirle nella vostra scrivania e ogni giorno prima di fare le vostre analisi, il vostro trading, rileggerle. Beh, una cosa importante poi è quella di pianificazione degli obiettivi, quindi non si può avere un obiettivo di fine anno senza avere dei micro obiettivi durante l'anno, che potrebbero essere ogni mese, ogni bimestre, ogni trimestre, comunque dei piccoli obiettivi per arrivare a un grande obiettivo di fine anno. E poi c'è il punto sul rischio. Ovviamente è molto importante la gestione del rischio e quindi bisogna rischiare nei trade ciò che sentiamo possiamo dare al mercato, possiamo pagare al mercato, mai rischiare in un trade quello che non siamo in grado di pagare, non siamo in grado di perdere. Cerchiamo poi di scrivere il nostro diario di trading ogni giorno, ogni settimana, quindi tutte le operazioni che si vanno a fare, andiamo a scriverle. Io ne faccio poche durante il mese, quindi ho tutto il tempo per poterle scrivere, capire dove sono entrato, rivedere quello che ho fatto, che è tutto basato poi su un piano. Il piano va fatto in questi giorni, se non ce l'avete, Omari va sistemato, smussato proprio in questi giorni. Io solitamente nella community Platinum proprio in questi ultimi giorni, soprattutto a fine anno, infatti nei prossimi giorni lo farò. Vado a rivedere insieme a tutti gli utenti del Platinum il mio piano di trading e lo vado un po' a sistemare in base a quello che voglio fare durante appunto l'anno successivo. E per concludere, la cosa primaria ma che ho messo alla fine è quella di non accelerare, anzi di rallentare. I profitti si fanno con calma, a volte basta un trade al mese per fare la differenza, nel nostro metodo almeno. Quindi cerchiamo di valutare sempre i trade con la massima qualità, capire veramente se vogliamo fare quel tipo di operazione e che tipo di risultato negativo o positivo potrebbe darci. Solo così potremo avere successo nel nostro price action trading quotidiano. Direi che anche per oggi è tutto, spero che questa pillola vi sia piaciuta e vi possa così dare qualche spunto positivo per il nuovo anno di trading. Per qualsiasi cosa potete tranquillamente contattarci, scrivere ovviamente nei commenti, lasciare un mi piace, così che se ci sono delle cose che magari volete che io possa portare qui con altri video e su cui ovviamente volete che io vada a discutere, basta che me lo scriviate qui nei commenti. Io vi auguro ovviamente un buon fine anno e un inizio anno. Al prossimo video, ciao!